Salve ragazzi, con questo video affronteremo un argomento veramente affascinante, la prospettiva centrale, quella scoperta nel 1400 dal grande Filippo Brunelleschi. Vi spiegherò quali sono le sue caratteristiche e le sue regole principali. Siete pronti? Allora cominciamo! La prospettiva centrale è una tecnica di raffigurazione che permette di rappresentare l'effetto di profondità dello spazio su una superficie piana. È stata scoperta da Filippo Brunelleschi nel 1400. Gli elementi fondamentali della prospettiva centrale sono tre. Il primo è la linea dell'orizzonte, che si trova sempre all'altezza dell'occhio dell'osservatore. La si vede chiaramente al mare, altrove bisogna immaginarla. Il secondo elemento è il punto di fuga, al quale convergono tutte le linee di profondità e che si trova sulla linea dell'orizzonte. Il terzo elemento è il punto di vista, dove sta l'osservatore. Questo punto non è visibile nel disegno, ma ne determina l'inquadratura, la posizione della linea dell'orizzonte e la posizione del punto di fuga. Ma vediamo di chiarire meglio questo concetto. Cosa significa che il punto di vista non è visibile nel disegno, però ne determina l'altezza della linea dell'orizzonte e il punto di fuga. Allora immaginiamo di trovarci in una stanza e di guardarla da un punto di vista diverso dal solito, salendo per esempio in piedi su di un mobile. Vedremo la superficie del pavimento molto più ampia di come siamo abituati, perché la linea dell'orizzonte, che si trova sempre alla stessa altezza dell'occhio dell'osservatore, si alza assieme a noi. Mentre invece cosa succede se facciamo il contrario, cioè ci abbassiamo. Proviamo a guardare la stanza da seduti. Ci sediamo per terra, quindi la linea dell'orizzonte si abbassa assieme a noi e anche il punto di fuga. Vedremo quindi il pavimento più schiacciato. In prospettiva si dice di scorcio, cioè un pavimento scorciato o un'immagine, qualunque oggetto sia si vede di scorcio quando è schiacciato dalla prospettiva. Un'altra cosa importante è, sempre riguardante il punto di vista, è da dove, da quale posizione noi guardiamo la stanza. Se invece di stare al centro della stanza, ci spostiamo di lato, cosa succede? La linea dell'orizzonte è rimasta sempre alla stessa altezza, perché noi non ci siamo né alzati né abbassati, però si sposta il punto di fuga, perché il punto di fuga è sempre davanti all'occhio dell'osservatore. Quindi vedremo una delle due pareti, quella più vicina a noi, più scorciata rispetto all'altra. Comprendere questo concetto del punto di vista che determina la posizione della linea dell'orizzonte e del punto di fuga è fondamentale, se io voglio disegnare una prospettiva corretta. Perché? Vediamo questo esempio. Io voglio disegnare un cubo, ma questo cubo è posizionato esattamente davanti all'osservatore, quindi sulla linea dell'orizzonte è davanti al punto di fuga. Ecco, in questo caso non si ha nessun effetto di profondità, perché l'osservatore vede solamente la faccia frontale di questo cubo, tutte le linee della profondità sono nascoste dietro l'oggetto. Vediamo invece altri due esempi. Proviamo a disegnare un cubo alla stessa altezza dell'osservatore, però spostato lateralmente, e un altro che è esattamente davanti all'osservatore. Allora, in questo caso cosa succederà? Che di questi due cubi, nel primo, vedremo due facce, quella frontale e quella laterale, mentre nel secondo cubo vedremo la faccia frontale e la faccia superiore, ottenendo già un certo senso di profondità. cosa succede invece se io disegno dei cubi lontani dalla linea dell'orizzonte e dal punto di fuga? Ecco, in questo esempio ho disegnato dei cubi partendo da tre quadrati. Vedete due sotto la linea dell'orizzonte e uno sopra la linea dell'orizzonte e sono tutti spostati lateralmente rispetto al punto di fuga. Ecco, in questo caso vedremo non due facce ma tre facce dei cubi perché vedremo quella frontale che si vede in ogni caso sempre nella nella prospettiva centrale, ma vedremo anche sia una faccia laterale che la faccia superiore nel caso dei cubi che si trovano al di sotto della linea dell'orizzonte e la faccia inferiore invece nel cubo che si trova sopra la linea dell'orizzonte ed è quello che succede quando noi guardiamo degli oggetti che si trovano più in basso del nostro sguardo oppure più in alto del nostro sguardo perché nel primo caso vediamo la faccia superiore degli oggetti, nel secondo caso invece vediamo la faccia inferiore degli oggetti. La stessa cosa succede qualsiasi sia la forma dell'oggetto che io voglio disegnare in prospettiva. In questo esempio vi mostro quattro forme irregolari che io ho trasformato in oggetti solidi attraverso il disegno in prospettiva. Ecco qui vedete che ho avuto cura sempre di disegnare questi oggetti lateralmente rispetto al punto di fuga e anche al di sopra o al di sotto non a cavallo quindi della linea dell'orizzonte. Un'altra cosa importante a cui dovete fare attenzione quando quando volete dare il senso della profondità attraverso la prospettiva è anche la colorazione. Come vedete in questi oggetti io mi sono sbizzarrita, ho usato dei colori abbastanza vivaci ma ho avuto l'accortezza di colorare in maniera diversa le diverse facce di ogni oggetto. Questo aumenta il senso del volume. Se io avessi colorato tutte le facce con lo stesso colore questi oggetti si sarebbero come appiattiti. Il senso della profondità sarebbe stato molto molto diminuito. Invece in questa maniera il senso della profondità viene accentuato. Vediamo adesso di fare qualche esercizio. Cosa ci servirà? Il solito materiale da disegno quindi un foglio in formato A4, questa volta è meglio liscio, due matite, una 2H e una HB, gomma e temperino, le squadrette e la riga. Se volete per contornare poi di nero il lavoro finito potete usare una tratto pen oppure delle penne nere da disegno come queste ma va benissimo anche la semplice tratto pen nera. Perché il disegno si veda meglio nel video io adesso utilizzerò una penna nera ma voi eseguite il disegno a matita. Come prima cosa traccio una linea orizzontale all'incirca in mezzo al foglio aiutandomi con le squadrette. Più o meno al centro segno un puntino. sarà il mio punto di fuga. Disegnate sul foglio delle forme geometriche, non importa la grandezza, le misure, anzi cercate di farle diverse tra loro. Come vedete io ne ho fatta una anche a cavallo della linea dell'orizzonte e quest'altra che sta proprio esattamente sotto il punto di fuga. Così potremo anche disegnare i due esempi di elementi di cui si vedranno soltanto due facce. Vi ricordate? Io adesso usando un righello vedete parto da questo angolo e anche da quest'altro angolo sotto e traccio le linee di profondità che convergono verso il punto di fuga. Disegnate leggermente proprio con un segno leggero queste linee perché queste sono linee di costruzione e andranno per lo più cancellate. Adesso dobbiamo chiudere il nostro oggetto disegnando una linea che possiamo mettere dove vogliamo. Per esempio qui una linea verticale che determina la faccia laterale di questo oggetto. La stessa cosa facciamo con quest'altro oggetto in basso. Partiamo dagli angoli e tracciamo le linee verso il punto di fuga e poi sempre utilizzando la squadra perché devono essere delle linee esattamente orizzontali, ecco qui, vado a chiudere questo oggetto. Faccio la stessa cosa anche con gli altri oggetti. Grazie. ecco qua una volta che avete finito i vostri oggetti in prospettiva potete colorarli con dei pastelli dei colori che preferite ma non è finito qui ci sarà un altro video tutorial sulla prospettiva centrale che spero di realizzare più presto e di potervi caricare su youtube intanto per questa volta è tutto vi saluto ciao ciao ciao